Ciao a tutti quanti, oggi vi saluto dalla Rocca di Soncino, siamo in Lombardia e siamo in provincia di Cremona. Soncino è uno dei borghi più belli d'Italia per cui assolutamente è un borgo da visitare e la Rocca è la fortezza, il castello che appunto si trova qui in questo paese. Ci sono sia dei camminamenti esterni che invece degli ambienti interni che sono stati anche rearredati e che rendono un po' l'idea di quella che poteva essere la vita qui nella fortezza. Ci sono molti ambienti angusti, ci sono le celle, le prigioni, corridoi che sono veramente molto stretti anche per evitare eventualmente il pericolo durante le invasioni. Tutta la fortezza è circondata dai fossati, c'era un fossato esterno molto grande e che veniva riempito d'acqua, mentre quelli interni erano asciutti e venivano riempiti solo in caso di necessità. Alcune aree comuni dove stavano le guardie e praticamente, che dire, la visita veramente è interessante. Oggi c'è un po' questa nebbia che non ci permette di vedere il panorama perché veramente qui tra le mura, i merli e i camminamenti è molto suggestivo, molto bello. Assolutamente se siete in Lombardia ricordatevi di venire a visitare Soncino e ricordatevi di portare con voi il passaporto. Il passaporto in Lombardia praticamente potete utilizzarlo per farvi mettere i timbri nei comuni che visiterete qua nella regione. Perciò è una cosa interessante e una cosa interessante anche perché vi rimane come ricordo di un viaggio qua tra le bellezze lombarde. Seguiteci, seguite l'hashtag in Lombardia365 oppure anche l'hashtag in Lombardia. In questi due giorni saremo tra Cremona e Mantova alla scoperta delle bellezze un po' di questa zona della regione. Per cui sono con altri colleghi, vi racconteremo tutto quanto in diretta sui social, perciò vi invito assolutamente a seguirmi e seguite in Lombardia perché la Lombardia non è solamente fatta di questi luoghi che vi racconteremo in questi giorni, ma ci sono veramente tantissime cose. È una regione molto vasta, è una regione molto ricca. Per cui adesso come al mio solito ho perso il gruppo. Intanto mi godo un po' il panorama che si vede dai merli perché la nebbia si sta alzando piano piano e si inizia a intravedere qualcosina. Comunque dicevo ho perso il gruppo come al solito, perciò adesso vado a cercarli e vi saluto e ci sentiamo prestissimo. Ciao ragazzi!